qualsiasi tipo. I beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata saranno destinati ad accogliere i profughi dall'Ucraina. Il ministro dell'Interno Lamorgese ha chiesto di avviare il censimento degli immobili che possono essere destinati in tempi brevi anche in via temporanea alla popolazione ucraina che fugge dalla guerra, tra questi anche quelli già trasferiti ai comuni ma non ancora utilizzati i doni per fronteggiare l'emergenza umanitaria. Al massimo l'impegno del ministero dell'Interno, ha detto la titolare del Biminale, per dare risposte concrete a chi fugge dal teatro di guerra e soprattutto le persone più fragili come donne e bambini. Adesso andiamo a vedere le immagini.